Benvenuti su MyFootballJersey. Vediamo questa splendida maglia del Napoli, questa è la seconda per la stagione in corso in edizione Player. Grazie per la visione! Il Napoli da un paio d'anni ci ha abituato a maglie stupende e questa secondo me non ne fa da meno. Fatta veramente molto bene, qualità ottima, il costo, lo vedete qui sopra, quasi incredibile. Vi ricordo che trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e per saperne di più qua sotto in descrizione. Andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Ora vi lascio la parte finale, prima però mi raccomando iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione Player. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa.